Adesso mai più è uno spettacolo di speranza, non sembrerà all'inizio guardando questo spettacolo di potersi divertire o di avere dei messaggi positivi, in realtà è uno spettacolo che racconta di come un uomo che ha creduto nelle proprie capacità e nella propria idea di futuro, di sogno, lottando nonostante le difficoltà, è riuscito a realizzare quello che voleva. Chi era Jonathan Larson? Jonathan Larson è un uomo che ha rincorso per una vita il sogno, il sogno di diventare uno scrittore, uno scrittore di musical. Di New York, gli anni 90, certi problemi che venivano fuori molto gravi come l'insorgere dell'AIDS, ma anche la vita dei quartieri più veri di New York. Noi abbiamo cercato di recuperare questi sapori, di tradurli in musica. Venitela a vedere perché sarà un'esperienza nuova sia per noi che per voi.